ancora ben trovati dalla redazione di florence multimedia in studio agnese fedeli cominciamo dall'autostrada sulla 1 rallentamenti per traffico tra monte catini e capannori nella carreggiata verso pisa qualche problema in fipili per veicolo fermo o in avaria coda di 5 chilometri con tendenza all'aumento tra la strassigna e montelupo stessa situazione tra empoli ed empoli ovest questa volta per una coda quantificata in due chilometri per lavori inoltre coda di due chilometri tra empoli e montelupo verso firenze rallentamenti carreggiata opposta tra ginestra e montelupo ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti percorsi alternativi sulla sp 12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11 prima di salutarci il regionale 6908 chiusi chianciano terma e siena sta viaggiando con 24 minuti di ritardo per un problema un passaggio a livello nei pressi di monte pulciano o versi in toscana infia un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana firenze e comune di firenze per ora è tutto buon viaggio grazie a tutti